Sono arrivato subito a un instandate, al primo bacio durante il primo instandate, quindi gran successo. Il primo bacio dopo quanto tempo l'hai fatto? Dopo circa un'ora, il primo bacio è stato fatto circa un'ora dopo l'inizio del primo instandate, quindi nella prima location, questa ragazza dava un sacco di feedback positivi e la giuria mi faceva segno di procedere dalle retrovie. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato, grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che il giorno stesso ti potresti già trovare in camera diretto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, hai la possibilità di iscriverti a un corso dal vivo individuale a Milano direttamente con me, Luca, fondatore di approccialla.com. Dal 28 ottobre fino all'1 novembre riaprono le iscrizioni per solo 5 fortunati. Per maggiori informazioni o per inviare la tua candidatura per partecipare, clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione. Allora, io ho conosciuto Luca qualche mese fa tramite un'inserzione su Facebook e ho iniziato a seguire i suoi video e mi sono incuriosito all'argomento, non sapevo sinceramente neanche che ci fosse la possibilità di approcciare ragazze di giorno e tantomeno qualcuno che lo insegnasse. Quindi ci siamo accordati per una sessione su Skype di un'ora in cui lui mi ha chiesto un po' di informazioni riguardo a me e mi ha descritto brevemente il corso, come funzionasse le varie opzioni e ho scelto di andare per il corso di due giorni collettivo di gruppo. Nel nostro caso eravamo due persone. Il mio punto di partenza era praticamente zero, penso di non aver mai approcciato una ragazza in 30 anni, vabbè diciamo 20 da quando si considera un po' l'età dell'approccio e quindi mi sono messo in gioco per migliorare le mie capacità comunicative e anche gestire in qualche modo l'ansia d'approccio oppure tutti quei sistemi che ti impediscono di essere te stesso. Il primo approccio che abbiamo fatto, o meglio che ho fatto, è stato parecchio traumatico, ci ho messo circa 10-15 minuti per decidermi ad approcciare la prima ragazza con successo scarsissimo. Però a fine prima giornata con circa 16 approcci sono arrivato subito a un instandate, al primo bacio durante il primo instandate, quindi gran successo. Il primo bacio dopo quanto tempo l'hai fatto? Dopo circa un'ora, il primo bacio è stato fatto circa un'ora dopo l'inizio del primo instandate, quindi nella prima location. Questa ragazza dava un sacco di feedback positivi e la giuria mi faceva segno di procedere dalle retrovie e quindi mi sono buttato ed è andato tutto bene. Dal primo al secondo giorno si vede subito un miglioramento più che nell'autostima, nella sicurezza dell'approccio. Poi da un punto di vista tecnico ovviamente ci vuole tempo per rinforzare un po' tutte le strategie imparate, però tutto sommato alla fine dei due giorni decisamente il cambiamento si vede, ci si sente più sicuri, più tranquilli e anche più consapevoli di quello che si sta facendo. Cosa ho imparato da questo corso? Innanzitutto che un sacco di pregiudizi e un sacco di informazioni che noi apprendiamo da un punto di vista sociale oppure da altri input come film, serie tv, amici eccetera, possono essere modificati e resi molto efficaci con decisamente poca pratica o meglio anche un corso intensivo di due giorni può portare a ottimi risultati. Luca è una macchina, non si ferma mai per due giorni, continua a dare input, continua a segnarsi tutto, è professionale nonostante ancora molto giovane, assolutamente affidabile, penso sia un corso che debbano fare tutti, tutti i ragazzi perché innanzitutto ti dà più possibilità e più possibilità è nella vita, più probabilità ci sono che tu trovi una persona giusta, tanto meglio che tu sia felice nella tua vita. Seconda cosa, è sicuramente un valido modo per mettersi in gioco, uscire dalla zona di comfort, divertirsi, conoscere persone nuove e poi mettersi a contatto con un professionista che ti sa guidare passo per passo, quindi assolutamente consigliato a tutti. Vorresti dominare le tecniche psicologiche che ti permetteranno di diventare un uomo altamente desiderato grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale, al punto che il giorno stesso ti potresti già trovare in camera diretto con una di cui non conoscevi neanche il nome fino a poche ore prima. Se sì, hai la possibilità di iscriverti a un corso dal vivo individuale a Milano direttamente con me, Luca, fondatore di approcciola.com. Dal 28 ottobre fino all'1 novembre riaprono le iscrizioni per solo 5 fortunati. Per maggiori informazioni o per inviare la tua candidatura per partecipare, clicca sul link in descrizione. Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link in descrizione.